Like the Hellcat Ok Allora andiamo un attimo qui su Youtube Si carica grazie Andiamo qua Vediamo un po' quante scarette ho Dove fare subito lo speciale Va bene Allora Ok Oggi La tre giorni La cinque giochi a caso Direi di provare Ok Vabbè Di provare Questo qua Ok capito Questo qui non è lo speciale Vero e proprio ma Lasciamo stare Quindi Survival The Jeff The Killer No 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 Non voglio che mi sentino Ok Comunque sto facendo un video Ok Allora Qui ci dovrebbe essere Jeff E lì Jeff Guardatelo Pede Ecco Vedete Sono morto Che bello Ok Allora Spero che questo video Non si banchi Tipo Se no lo devo montare Bene E io non ho voglia Di montare Ma devo montare Dai Dovevo montare Perché devo aggiungere Anche la mia La mia auto Che Che cavolo Ok Ok Allora Jeff Qui sotto Dovevo andare Qua Eccolo Lo vedete Io Vi metterò Una freccia Non del paio Paio Vabbè Se qualcuno Sa lo spagnolo Scrivetemi Qualcuno Tra i commenti Cosa ho scritto Perché io Sinceramente Non ho capito Un'h Ok Ok Comunque Mandatemi La richiesta D'amicizia E io L'accepterò Mi chiamo Ipepe31 Eccolo qui E vabbè Che salto ha fatto Aiuto Aiuto E niente Ma lui Non dovrebbe Non dovrebbe Saltare Come Super Saiyan Ok Vabbè Vabbè Il posto Il posto magico Ok Ok Voi vedete Che spengo L'area di situazione Magata Non la spengo Perché la devo Siamo proprio Eravamo rimasti Almeno credo Poi non lo so Allora E tutto Devo vedere Dove C'è Ma Secondo voi Dove Scrivetelo 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 Poi scrivetelo Nei commenti Quando vedrete L'emoji Sorridente Sorridente E verrete Salutati Nel prossimo Video Quindi Scrive Ok L'emoji Sorridente Anzi Ho cambiato Idea Un fulmine C'è Il fulmine Quindi Un fulmine Quando vedrete Un fulmine Non schifate Perché potrebbe Essere Anche Adesso Oppure Forse Non l'ho fatto vedere No Non l'ho fatto vedere Oh mio dio Mamma mia Mamma mia Ho rischiato Tantissimo Ok Ok Eccomi 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 Non chiedetemi Perché mi sono buttato Non chiedetemelo Allora Ho stato Spider-Man Sì Ho stato Proprio Spider-Man In persona Proviamo Per scendere Non lo vedo Ma dov'è Raga Ma perché è quasi morta Io non lo vedo adesso Vabbè Allora andiamo Scendere Oh Prima di tutto Se non sei ancora iscritto al canale Iscriviti Cosa aspetti E attiva la campanellina E lascia un bel like E continui Vabbè Cambiamo gioco Quando Jeff Ci uscirà La prossima volta Quindi dobbiamo andare In vicino a Jeff E non farci uscire Ma non so dov'è Dov'è Jeff Ok Ho sentito qualcosa Ok Devo andare vicino Che però Devo stare attento A non farmi uccidere Perché questo gioco È bello Non riusciamo a scendere Vabbè Via con il prossimo gioco Il prossimo gioco Ce la consiglia Una mia amica Che la consiglia Sì sì Che la saluto Allora Ma il resto Il mio ristorante Il mio ristorante Ristorante Perché cosa ho con la parola ristorante Vabbè Oh mio Dio Che musica Grandi Vabbè Trocchi grandi Così a caso Skip Skip Allora Ah I soldi I soldi Allora Si è buggato tutto Mi sa che non c'è fa giocare Oh Quanto allagato Ok Credo che Si sia Ok Si si è risultato tutto Però all'agra è ancora estremo Ok Non l'agra più tanto Ho soltanto L'ho fatta da febbre Ok Open Non so cosa devo fare Non so cosa devo fare Ah Non c'è ancora un altro Allora 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 cosa gradisce Ok Devo preparare una pizza Beh Buona e facile Le uova Prepariamo ste uova Va Ok Ora Andiamo qua Dobbiamo Oh Wow Bello O Big Grazia devo andare al big shop e comprare qualcosa peccato che i robot li ho spesi tutti e ora ce ne ho soltanto due si si devo prendere i soldi 15 euro ora mettiamo a lavare i piatti ora che abbiamo messo a lavare i piatti lava lava i piattini lava lava i piatti perché tu hai un ristorante quindi lava i piatti ok a devo dare su staff io quanti soldi ho pochissimi minuti tipo 114 allora prendo david dai cucino io li prende gli ordini david oh mio dio ci sta andando ok figo potete prendere il vostro ordine cosa vorrebbe ok allora io sto ancora perché se no poi il ok allora david non ci sono abbastanza senti david che fai ok non so cosa stavi facendo david ma vabbè vabbè io preparo un po' di io preparo questo ok ok puliamo questo non so cos'è è mi servito al cuca 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 ok david pronto ok le macchie sono due mi servono almeno 100 euro e poi mi posso comprare qualcosa david sta facendo davvero tante cose bravo david ok Ok, tengo a suo sacco, per il momento non c'è niente, abbiamo 84 soldini, ce ne mancano pochi e possiamo comprare anche quello che cucina, così ci danno pochi soldini, ok, andiamo a lavare i piatti, non si è visto il video ma sono crashato, ah, il mio tablet sta morendo, sono crashato e quindi dobbiamo rientrare e spero che non dobbiamo rifare tutto, quattro registra, ce ne sono tutti messe insieme, cavolo, ok, siamo sul gioco, sul gioco, vabbè, lasciamo stare, ok, avevo anche preso il cuoco, dov'è il cuoco, ok, ecco il cuoco, il cuoco, allora, io voglio andare nello shop, quindi me ne vado, ma solo per un attimo, David fai tu, e anche tu cuoco, io vado nello shop, ok, e consigliatemi qua sotto nei commenti quale altro gioco potrei portare, questo qui è il, non notate che c'è Miraculous, ops, ok, ok, allora, ok, allora, qui dovrebbe essere il big shop, si il big shop, dobbiamo comprare qualcosina, dopo intanto dobbiamo anche prendere 40 euro, ok, ma costano un sacco? voi ecco, sta a poco, dovrebbe essere il primo a presto di soldi, c'è noi, così vai oh molta gente ok prendiamo i soldi e mettiamo a lavare questi piatti qua ok allora diciamo che dobbiamo comprare qualcosina ok david ok dove lo so con i robot ah è qui se sapi sicuro io ce ne ho soltanto due sono povero me ne sono dimenticato e allora come faccio non compriamo ce ne andiamo ce l'ho fatta basta che andare qui e vedere ok intanto per questo adesso ve lo cercherò quanti soldi ho e ce ne ho tanti me ne sono dimenticato tanti ok ok per un attimo pensavo che si fosse bagato tutto questo video dovrei registrare già da 20 minuti boh anche questo qui era un droll il video speciale 40 iscritti lo pubblicherò domani quindi restate aggiornati e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare aggiornati sullo speciale 40 iscritti quindi bella ciao 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 ciao